Una notizia che tocca il cuore, un tributo alla forza dell'amore familiare. Il mondo di Elisabetta Gregoraci è stato sconvolto dalla scomparsa della sua amatissima nonna, una donna straordinaria che ha raggiunto l'incredibile età di 102 anni. Siete pronti a scoprire questa toccante storia? Allora, preparatevi a immergervi nell'affetto e nella dedizione di Elisabetta verso la sua nonna. Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl e modella, era tornata a casa quest'estate per celebrare il compleanno della nonna, con cui condivideva il nome. 102 anni di vita. Un traguardo incredibile che ha riunito la famiglia per festeggiare insieme. Da sempre, i fan sanno dell'amore incondizionato che Elisabetta prova per questa donna straordinaria. Ma oggi, purtroppo, l'atmosfera di festa è stata spezzata. Elisabetta ha annunciato la triste notizia della scomparsa della nonna attraverso un post commovente su Instagram. In queste immagini, vediamo la felicità condivisa dalle due donne mentre erano insieme. Ma nella didascalia emerge una dedica che fa stringere il cuore. Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai. Ho sperato e pregato tanto. Purtroppo oggi la mia adorata nonna Elisabetta ci ha lasciato. Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli. I suoi abbracci, il suo sorriso e l'amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine. Una donna eccezionale. Una nonna amata, che ha lasciato un vuoto immenso. Elisabetta continua il suo commovente omaggio. Sei stata una forza della natura nonnina mia. Eri la prima a guardarmi sempre in TV a darmi il tuo supporto e affetto. Ciao mia adorata nonna Elisabetta. Ti amerò per sempre e ti porterò sempre nel cuore. Supportaci mettendo un like al video ed iscrivendoti al canale.